Una stagione turistica particolare, quella del 2020, fortemente segnata dall'emergenza coronavirus. Ma storicamente, nelle difficoltà, la Calabria ha sempre reagito con forza, sfoderato le energie migliori, riscoperto il senso di appartenenza e di comunità, che in quest'anno così difficile significa anche offerta integrata e turismo di prossimità. Tra le tante attrattive esistenti in Calabria, ci sono numerosi stabilimenti termali, ciascuno con le proprie peculiarità. Le terme sibarite si integrano in tutto il contesto, abbiamo il mare, abbiamo anche il mondo, abbiamo le grotte di Sant'Angelo qui a Cassano. Il termalismo si integra, mai come in questo momento, nel turismo di prossimità. Aiuta tra l'altro alla destagionalizzazione dei flussi, quindi il termalismo può essere di aiuto al rilancio del turismo nella nostra regione. Da 70 anni, nel cuore del centro storico di Cassano Ionio, l'importante complesso termale offre cure innovative e all'avanguardia. Le nostre terme offrono oltre ai vari servizi, diciamo, previsti nel sistema termale, quale le cure inalatorie, la fangoterapia e tutta una serie di servizi che servono all'apparato respiratorio. Ma noi qui alle Terme sibarite abbiamo anche un centro riabilitazione neuromotoria che agisce su coloro che hanno avuto dei disturbi sia dal punto di vista neurologico ma anche dal punto di vista fisico. Il nostro fiore all'occhiello è quello di avere due piscine termali dove si fa idrochinesiterapia che in molti casi accelera anche quella che è la guarigione dei traumi e di altro, diciamo. Dal prossimo 21 giugno, inoltre, il complesso termale sarà impreziosito da Clarenzia Water, Wellness & Beauty, la prima spa di proprietà regionale, ispirata ai fasti e alla grande bellezza dell'antica Sibaris.